Nessuna cerimonia ufficiale causa coronavirus, ma un gesto altamente simbolico. In occasione della giornata mondiale per le vittime dell'amianto, il sindaco di Monfalcone Cisinta ha innaffiato in Piazzetta Colombo a Panzano l'albero dei fazzoletti, simbolo del dolore per chi ha perso la vita a causa della fibra killer, ma anche simbolo di speranza. L'esemplare di Davidea è arrivata da Casale Monferrato a fine maggio dell'anno scorso, dopo che il comune di Monfalcone è risultato vincitore del premio Eternot, istituito appunto dalla città peimontese per riconoscere l'impegno di chi si è distinto nella ricerca, nella diffusione dell'informazione e nelle battaglie sociali e legali relative ai danni causati dall'amianto. A prendersi cura della pianta con un annaffiatoio è la comunità come simbolo della custodia della memoria delle morti provocate dall'esposizione all'amianto. Noi ogni anno, beh la tragedia nel Monfalconese è conosciuta, non solo nel Monfalconese, noi la viviamo in maniera molto molto sentita, non c'è una famiglia da noi che non abbia vissuto, la mia anche, non ce n'è una che non abbia vissuto questa tragedia. Ieri, a differenza degli altri anni, abbiamo potuto fare molto poco. Ieri ci siamo trovati per dire ai nostri cittadini, a tutte le persone che soffrono perché nella loro famiglia questa tragedia è successa, che comunque ci siamo, ci siamo sempre. Alla breve riflessione sono intervenuti anche gli assessori Luise, Volante, Asquini, il parroco Don Flavio e alcuni rappresentanti del rione di Panzano. Da parte di questi ultimi è arrivata una proposta, ricordare con una panchina rosa le tante donne vittime dell'amianto.